a tutti ragazzi e benvenuto a un nuovo video sul canale di Joker e PS2 sul canale di Joker Pro Gamer, vi parlano Joker Pro Gamer e Batman Arkham City, PS2 non esiste in questa serie salva scherzo carissimi finalmente ma se ci fa questa cazzo di serie finalmente ah samba si berbalu, miglia grida non ti coglioni, ecco, là c'è alcuni coglioni che faccio questi due, piccali, scoglioni, di scoglioni, carissimi da quasi DC che si tratta con tempo non porto la serie ragazzi, la domanda in questo video in questione è, ecco, bello sto facendo un cappone fammi vedere, fammi sapere mi sono allenato carissimi, non ho badato a colpuglio ma questo è il gioco di Batman Arkham Riggins, è vero? hai completamente sbagliato qual è? Batman? Arkham City il gioco di Batman Arkham City è un sequel? ho una... vabbè, questa è una domanda troppo semplice vabbè, cambiamo... ma sono pure i bimbi viga che mettono, non mi piace, ma dai, cambiamo, cazzo di cazzo, coglioni cambiamo la domanda hai fatto arrabbiare quelli dei figli? allora carissimi, nell'ultima puntata con i massi che siamo sfuggiti alla torre di Pisa alla sotto che sta... diciamo che è esplosa, perché il Joker, non io ha messo una bomba e adesso dobbiamo tracciare la... scusate, perché parlano quei coglioni, devo stoppare nell'ultima puntata la torre era imbottita di esplosivo che cosa è successo? Batman è sfuggita la trappola, come sempre, dopo tutto se non sfuggi la trappola non è Batman io sto prendendo la domanda ecco e adesso dobbiamo tracciare la posizione di Joker per interrogare sul fatto del protocollo di Enchi cosa cazzo, eh? non lo so e chi lo sa, carissimi, non lo scrivesse nei commenti pena, bani, istantaneo vale anche per Pisa tu, ovviamente e se tu, il protocollo dici quello che faccio io al bai ah, penso che sia un pazzo furioso e che ci succede dimmi una domanda perché sei nato? questo dice, vabbè, questa domanda è troppo scondata cioè distruggere naturalmente che sei tu, intendo che tu formi una domanda, carissimi un mondo migliore faccio l'addestramento, così sblocco il rampino il super rampino ragazzi, non mi mettono domanda la domanda è, verrà a Pisa di una domanda? carissimi, io direi di stoppare momentaneamente, così cerco di sbloccare il super rampino carissimi, finalmente sono stati ottenuti potenziamenti rampino e ho pensato la domanda sì, carissimi, aspetta un like che già PS2 sa che domanda pari ragazzi, secondo voi qui nella mia occasione per andare ci sarà un altro sequel di Batman di Arkham Knight sono il per dire Oris secondo voi ci sarà un altro sequel oppure la serie usate l'hashtag la serie si fermerà su questo su quel gioco Arkham Knight che hashtag devo usare per rispondere a questa domanda? rispondere alla domanda hashtag la risposta per PS2 anzi, risposta per PS2 carissimi e lì scrivete la risposta no, perché sennò non lo scrivono io riesco a capirlo naturalmente commentate qui sotto nei commenti e dite la vostra e no, nel prossimo video di Batman aderente a Batman Arkham City vi saluteremo ma che cazzo carissimi io mi sono andato sul combattimento superatore no ma che cos'è questo potenza c'è la potenza del radio provata cazzo ma ho capito sta cosa qua a destra è il segnale da cui provenienti il la trasmissione del Joker capito? stiamo rintracciando i giochi devo trovare un altro accesso per l'acciaieria che si vuole che serve un accesso perché non ci ho pensato vado l'accesso vado l'accesso vado l'accesso ma c'è l'altro prima ha fatto accesso allora andiamo a batti il gabinetto con la battigenia principale è il bat detersivo il bat detersivo con il bat alzolo il bat scaricatore abbiamo trovato ciacquo ah ricordo che stiamo giocando non sulla rimasta il 24 ma sulla PS3 non si è visto a me lo sanno com'è fatto pensano carissimi allora dobbiamo trovare i molti ci sono dei palloncini non so se è di sbloccare no da sinistra sotto 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 allora dobbiamo trovare un ingresso per l'acciaieria bat ovviamente vuole l'ingresso più difficile possibile l'altro ha detto non rompermi il cazzo prenditi questa qui perché è la più semplice il bat ho detto aspetta torno a casa un po' di bat botte e non ti ho neanche la bat pensione e ti bat le genzio ecco che sia un bat stronzo non dobbiamo un bat cazzo eh che bat cazzo che batterò un bicoglione no che batterò gli uoni che parlando seriamente carissimi dobbiamo entrare attraverso la cornacea mi raccomando rispondete la domanda come devo fare ps2 sputaci niente pesceci niente per me le una per me dai no lo so vattene per modo di dire ps2 l'ho platinato non lo devi dire a me io ho qualche domanda a te penso che penso che l'ho caduto penso che doveva fare un uso di metallo nel caso che fa ma perché sta cadendo tutto? perché è una fornace non ci sarà mai qua ma io ho avuto un trofeo domani sì 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 per platinare un gioco cosa hai bisogno fare fare tutti i trofei che ti chiede gioco io provo a saperti che ti ho detto no ragazzi mi prego ci ho provato ma te si è dovuto provare di più oh 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 ps2 adesso posso farle una domanda cosa ne pensate di darle qui tu cosa ne pensi si gioca vabbè il Joker ne pensa bene tu ps2 ah ah cosa ne pensi tu ps2 ah si cioè non è niente in confronto in confronto in confronto alla mia ragazza bravo oh ecco tu non è un complimento per la tua ragazza stupido oddio che cazzo è ps2 me lo vedete mi vede c'è 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 in live c'è 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 l'ip chi mi ha ingannato adesso ieri perché ieri non l'ho mai capito questo doppiaggio questa parte del doppiaggio perché ieri che cazzo a vedere ieri ma si trova si trova di non me lo farai dire eh gioca ti do l'onore premi il triangolo ok quadrato no davvero penso che era tua nonna no era sua nonna no allora lasciatelo scappare di nuovo ragazzi che bello quando ho pezzo in braccio sembra che cado una bomba tonta è vero e volevate tanto non ti colpiscono tanto non ti colpiscono sicuramente ti colpiscono mamma mi fai quando però ti colpescia tranquillo che fra poco mi colpirà un altro se tu dici chi è gli devo dare il premio nobel appunto 42 di combo ehi la colpita che fa la genetta e cazzo bomba atomica ammazzato povere papebre adesso arriva difficile non è bene hai ragione ancora no ah niente bisogna passare dov'è qui passare oh non sai perchè piango questi due perchè non c'è un minimo di rispetto per batman giocare nell'ufficio del direttore dell'acciaieria ma non ho modo di raggiungerlo confido non lo sarà a lungo solo ovviamente alcuni terapeuti hanno trascinato via una dottoressa sistemerò joker dopo averla trovata allora non vi ricordo dove cazzo devo andare buona grazie mappa che cazzo devo andare c'è il mondo originale vuol dire ascoltare sono un indizio si perfetta hai sentito non tanto giocare sei perfetto ma non sempre il tuo un indizio è un indizio a come si volverà la trama anche se è uscito sette anni fa ma questa quale appunto te la seconda la seconda per superare gli uomini di giocare giocare ma così rovini le macchine e poi io devi pagare e chi devo pagare? no io lo devo pagare le macchine erogate oh ti ho detto mille volte che a casa non si va sui muri non farò la batman anche con me non si scherza arrivo pure morte però io voglio è morto dalla buzia della sciola di batman si a voi hai dimenticato il suo ragazzo si io hehehe buonanotte ma perchè dalla porta entriamo in grande stile ah modalità predatore tieni premuto r2 per cosa c'è grazie per l'info prego tra 5 metri girai a sinistra no no non c'è una scena è ancora quasi muore ma mannaggia la miseria mannaggia K.O. 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 vogliamo un K.O. vogliamo un K.O. vogliamo un K.O. funge ha 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 guarda ha detto maledetto questo istinto non è vero voglio solo un caffè Dio espresso eh scostumato espresso vuote non ho capito la pubblicità sai che hai toccano ci pubblicità? ha la testa dedete per i zanzari bene dai vieni 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 perchè ti trovi secondo me perdi un dottore che è vestito come... scusa PS2 a poco e infatti ps2 quanto ci ho messo? pochissimo ho chiuso a 14 minuti e 26 secondi a proposito ho usato per lo più estintori è stato per lo più l'ambiente a metterli capò quanto amo la modalità predatore carissima ci hanno chiuso dentro ps2 oddio e ora bisogno che è fatta ma ma è un video al cuoco coglione non è un dottore è un dottore devo uscire a me non è un dottoressa a vigile al cuoco è una dottoressa vado la carica rec se senti arrivare qualcuno nasconditi io tornerò per farsi il figlio la carica rec abbiamo queste due carica elettrica remota anzi carissimi metto la corazza perché sto notando che sono dannatamente potenti la corazza da mischi perché momentaneamente ho problemi con il combattimento momentaneamente sempre a disconosco ma anche io ti sconosco ma ci sconosciamo no ci sconoschiamo come sarebbe aspettiamo che Batman trovi a scontare la porta e poi lo abbracchiamo non è un piano è un suicida non mi fa paura la porta è pelle chiusa e saldata mentre lui è un imbecile in costura ma non è batman si chiama giro no è la loro nonna che non hanno mangiato la pasta a mezzogiorno e si è vestita da batman si chiama nonna batman bat nonna con la bat punto un'altra domanda un'altra domanda con la bat fiat con la bat fiat e con la bat vespa questi due ti faccio un'altra domanda bat forma bat forma fa più paura a batman o a nonna no no ma non non assolutamente infatti joker quello del gioco non io ho paura della nonna vabbè anch'io ovviamente però anche il piso da parola no io ho paura del bat no no la tua nonna avversita da il gioco ma c'è una porta aperta se sei giusto che cazzo stai facendo e perché a vabbè carissimi e c'è l'occasione di raccoglio mi pare che non posso prenderlo se non posso prenderlo mi manca il gadget all'altro carissimi se mi sarà possibile mi portrò la redizione di masterizzata così non lo vedete più in questa vada c'è una capo di mi mamma non fa niente oh ecco questo qui caro pisto è quello che mi colpirà si dopo averlo battuto anzi ci sarà l'ultimo video e concludiamo ciò che mi solterra secondo te dura una memoria credo che sia credo speriamo ovviamente credo attaccalo ma sei un coglione ma sto lento e che spera di fare un attacco che io credo bene ci mi dà ben danno eh è già morto si è già cappò stai per soffriggere stai per soffriggere ma per fare ridere eh così è detto quello ti bollo vivo ti faccio lo spiello la fangu ah no vieni 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 bene ti vuole un po' la rossa se l'ha prenotato non vado a incalzare basta cazzo no pollo è finito basta questo qua vuole una grigliata di pesce che è successo? il piritone cesso ascolta si sente un rumore strano panno con ultimo video è morto oddio è morto gioco la domenica mi lasci sempre il sole per andare a guardare la partita di pallone perchè perchè è morto gioco che non sono io per il momento aspetta se tu e perchè mi vuoi diminuire la durata della mia vita perchè sei un gioco e tu sei un ps2 era mai estinto ma a vivo ancora è morto è bevo e com'è dire se è vivo se è morto ma è un altro che bene ora batti ma ne ha avalanato non so perchè mi sta antipatico a questa mazza goodnight carissimi la seconda puntata finisce qui però stranamente dopo batman è qua perchè non è batman vuoi sapere chi è? lo saprete nella prossima puntata il ps2 è no dai cazzo voglio saperlo lo saprai nella prossima puntata carissimi la seconda puntata finisce qui se volete la terza puntata quanti like devo lasciare il ps2 sempre 3 3? e mi raccomando rispondete alle domande di Joker ps2 che la domanda è secondo voi c'è ci avranno un sequel di batman arkham knight oppure si fermeranno sono 3 si fermeranno la? io carissima la mia domanda è fa più paura la nonna o batman? rispondete sempre nei commenti o la batmanonna o la batmanonna con la batviet punto dai vostri amatissimi il video finisce qui da batps2 vuoi salutare qualcuno? da batps2 non possiamo salutare se non rispondo alle domande è giusto e non possiamo salutare quelli che non commentano mai anzi saluto infamous che io sono l'unico che ti saluto altro peggiorno però devi rispondere alla domanda da ora in voi per ripeso il tono se no se rispondete alla domanda noi vi saluteremo da batman... da batps2 e manjoker batman... bat ps... manj... vabbè da batps2 e batjoker e tutti buona bat video e buon bat riposo dopo aver visto questo bat video speriamo che il video vi è piaciuto e se vi è piaciuto lasciate commentate tanti like e condividete e se volete andate a iscrivervi al canale di twitch oppure su un cazzo chiamalo aspetti che non vi è venuto in mente a instagram oppure eh seguiteci ancora me oppure sul canale unico chiamato canale di GIOGFPS2 GIOGFPS2